ciao sono matteo di verduzzi il tuo fruttivendolo di fiducia esistono tante varietà di melone ma oggi parleremo di due sole varietà il melone retato e il melone liscio come fare per scegliere il melone giusto bisogna innanzitutto annusare il picciolo sentire a tatto la consistenza del melone che deve risultare non troppo morbida e non troppo dura e il profumo deve essere dolce ma non nauseante invece se volete andare a colpo sicuro bisogna scegliere il melone lorenzini l'azienda agricola lorenzini natura mica si sviluppa nei terreni fertili della pianura padana con precisione nella zona di mantua e in sicilia nella zona di pacchino la loro azienda è specializzata in pochissimi frutti con precisione il melone il loro melone ha un livello di gradi brix che sarebbero i gradi di dolcezza che va dai 16 ai 20 gradi considerate che i meloni che si trovano in giro nella grossa distribuzione come normativa europea hanno l'obbligo di essere di almeno 8 gradi brix quindi credo che ci sia una bella differenza come potete notare sul melone c'è impresso al laser un codice questo viene fatto quando il melone rispecchia gli standard dell'azienda questo codice viene generato da un macchinario all'avanguardia che lorenzini possiede e sono tra l'altro i primi loro in europa a possedere questo macchinario dove ogni singolo frutto viene passato al laser per controllarne la dolcezza se noi andiamo sul loro sito web possiamo controllare la tracciabilità di questo prodotto semplicemente inserire e inserendo il codice adesso ve lo mostro eccoci qua ci dice che la varietà è il liscio lsl l'ora di analisi l'appezzamento il lotto il grado zuccherino brix ragazzi questo è un 17.59 inizio raccolta 0605 2022 ci dà il calendario dei controlli la data di trapianto il vivaio di provenienza il concime quindi concime organico ragazzi secondo me è una vera figata perché sono davvero in poche le aziende che riescono a offrire un servizio di tracciabilità così guardate arriva dalla sicilia veramente veramente bello ragazzi siamo giunti al termine di questo video io spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciatevi un like commentatemi se volete chiedermi qualsiasi cosa ma soprattutto iscrivetevi al mio canale ciao e al prossimo video